Bene, raccontaci bene la storia di questo torneo che tra l'altro è un torneo in memoria di Stefania. Che insomma è sempre un momento doppiamente bello per me, perché da un lato la manifestazione sportiva è meravigliosa, poi la memoria di Stefania. È un fatto personale e degli amici soci, ma è importante anche quello. Allora, voi avete già capito perfettamente perché Ezio Fumarulo è stato nominato direttore del torneo quest'anno, perché un pragmatismo ferreo come quello di Ezio è l'unica cosa che ci garantisce il rispetto di un tempo, di un cronoprogramma che è complicatissimo. Organizzare questo torneo, nonostante che sia il secondo anno, e venivamo da cinque anni di palestra precedente col 15 mila dollari. È veramente una macchina organizzativa pazzesca. Abbiamo la fortuna di avere Ezio e qualche altra persona come Pierre che al circolo vi ci si dedicano per alcuni mesi a tempo pieno, come se fosse un lavoro in pectoris proprio. Però nel pragmatismo di Ezio, secondo me, ha cercato subito di parlare dell'importanza della difficoltà di reperire i giudici di linea, ma io spenderei un attimino più di tempo su questo progetto sport-scuola, che secondo me è altrettanto importante per la città che non lo spettacolo in se stesso. Aver proposto al provveditorato, e il provveditorato aver allargato ovviamente la proposta a tutti, io li chiamo alla vecchia maniera, presidi, adesso so che hanno un nome molto più roboante di direttori scolastici, ma è riuscire a fare un progetto dove, direi, tra raccattapalle e giudici di linea, ma direi un centinaio di ragazzi, dico bene Ezio, proveranno questa emozione di entrare in campo insieme ai professionisti, specie i giudici di linea, quindi i ragazzi un po' più grandicelli, quelli delle scuole superiori. Sapere che sbagliare una chiamata vanifichi magari qualche migliaio di euro di spesa di un giocatore che ha dovuto prendere l'aereo, venire, si pagano il soggiorno, e sono tutti ragazzi che sono qui e combattono per i punti, non per i soldi, perché 50 mila dollari è un numerone, ma bisogna sapere che a chi perde il primo turno vanno 70 euro. Quanto vanno? 70 euro e 6 mila euro per vincente. Il vincente, cioè colui che è stato qui, non 8, ma 6 giorni, cioè dal lunedì alla domenica, porta a casa 6 mila euro o dollari. 6 mila cento euro. Euro. Che è, per carità, se uno li vincesse tutte le settimane, sarebbe bello, ma non è esattamente così. E lo vincente c'è i 50 mila subito. Quindi, stavo dicendo, in campo c'è poi un pathos veramente grosso, e per un ragazzo di 16-17 anni, reggere questo confronto, il giudice di sedia che ti guarda e che aspetta da te la chiamata, non è un'esperienza da poco. Ti fa capire il valore dello sport, ti fa l'importanza del momento topico dello sport, e poi, siccome il ragazzo che viene a fare il giudice di linea sta qui tutto il giorno, o la mezza giornata, a seconda della disponibilità che ha dato, vive a contatto gomito a gomito con questi atleti. Stiamo parlando di gente come l'anno scorso Bolelli, Cuevas, Struff, Goffeng, adesso è il numero 20 al mondo. Cioè, gente che a Wimbledon rischia di arrivare ai quarti di finale. E li vedi cosa? Che sono tranquilli, normali, molti di questi li vedi che finita la partita aprono il loro laptop e incominciano a studiare, perché comunque molti di questi sono ragazzi che studiano. L'anno scorso è stato molto bello anche i ragazzi giudici di linea e i ragazzi che comunque erano le palle poter conversare poi tranquillamente nel Deore con questi atleti che normalmente venivano visti in televisione, ma quindi c'è anche un'opportunità per i giovani di confrontare lo sport. C'è un gomito gomito che da un lato consente di vedere la difficoltà di questo sport, ma dall'altro anche di normalizzarlo e portarlo proprio a un contatto diretto. Scuola, ecco perché il comune, secondo me la vicinanza del comune su queste cose è fondamentale, perché non può essere una manifestazione che viene abbandonata così, o battezzata come un semplice evento sportivo, non lo è. E nove giorni, perché due di qualifica più sette di torneo, di, secondo me, pura cultura sportiva. Grazie mille, Leo. Direi che è un'opportunità per la città e io spero che i ragazzi rispondano anche in modo adeguato e poter vedere non soltanto i grandi campioni, ma anche i futuri campioni vercellesi, che magari è anche l'occasione per portarli a vivere più da vicino il circolo. E proprio a proposito di vivere più da vicino il circolo, Pier, guarda, passiamo il microfono, passiamo, guarda, il radiomicrofono, così sei più comodo. Allora, quest'anno il circolo si apre ancora di più. Se già non era aperto, forse tante volte si è detto, no, il circolo Provercelli, il circolo d'elite, invece adesso sta diventando veramente un circolo popolare, dove per popolare vuol dire vicino a tutti quanti, aperto chiunque, aperto ai giovani. Sì, quello del circolo elitario è un pregiudizio contro il quale lottiamo ormai da anni. Invece è un circolo popolare, con quote popolari, come in ogni parte della città sono apparse e possono essere viste da tutti. Noi questo circolo offre tantissimo, tenete conto che è nato nel 1948 e quindi fra tre anni facciamo 70 anni. Ma questa sede qui è nata negli anni 70, dove, anzi non negli anni 70, nel 1969-70, quando il tennis aveva raggiunto forse a Vercelli, ma in Italia credo, l'apice della popolarità, complice ai successi di Panatta, Bertolucci, Barazzuti, che hanno vinto la famosa Davis. Prima ancora Pietrangeli, io che sono Nicola, mio papà. Nicola da Pietrangeli. Prima ancora Pietrangeli, esattamente. E veramente da quei campi di Viadern nati appunto nel 1948, un gruppo di soci che noi consideriamo soci fondatori, ormai datati perché il tempo è passato, ma qualcuno di loro è ancora con noi, ha pensato di trasformare un bosco di acace in questa struttura che vedete, adesso è notte, chi non la conosce non la può vedere, ma inviterei tutti veramente di venire almeno una volta a vedere. Beh, c'è l'Open Day. Esatto, esatto. L'occasione potrebbe essere l'Open Day, che è domenica 22, il circolo si apre, si apre a tutti, avremo i nostri maestri che faranno vedere come si organizzerà la scuola, avremo delle soci che sono esperte di training, piuttosto che di ginnastica posturale, piuttosto che di fitness, che tutto il giorno proveranno, dimostreranno cosa può capitare anche all'interno del circolo. Abbiamo strutture che vanno dalla piscina alla palestra, che è qui sopra di noi, a questa clubhouse dove molti amici giocano a biliarde, giocano a carte, abbiamo un campo in sabbia dove si fa beach volleyball e beach tennis. È veramente un circolo dove si può passare alcuni momenti della giornata, ma anche tutta la giornata. Ed è un circolo che si è creato, così come lo vedete, con le sole, uniche forze dei soci. Perché aiuti, finanziamenti non ne abbiamo mai avuti, ne avremmo tanto bisogno, perché come diceva il Presidente, la situazione... Lasciamo un messaggio alle istituzioni... No, ma non è una brega, perché so che c'è un problema burocratico, noi siamo su un terreno che credo sia regionale, e quindi non è di diretta... Però in realtà la nostra associazione non è a scopo di lucro, ma in realtà offre moltissimo i centri estivi, piuttosto che la scuola SAT, piuttosto che dei momenti in cui giovani e meno giovani possono passare veramente il tempo qui. E ritornerei a dire non a livello elitario. Qui di elite proprio non ce n'è. C'è una voglia di stare assieme, di fare aggregazione, anche cultura, perché ci sono anche delle serate di questo livello, e davvero passare dei momenti che sono aggreganti e anche socializzanti. E quindi vi aspettiamo al Tennis Provercelli. Il 22. Esatto, il 22 marzo, Open Day. Il 22 marzo è dalle 10 in poi. Vincenzo, esatto. Open Day. Ultima domanda, ricordiamo le date del torneo, perché secondo me è fondamentale memorizzare... fine aprile, comincia il 21. 18-19. Arriviamo già due giorni dopo. Ci sono due giorni alle qualifiche. Dal 20 al 26 entreranno in scena i big, nel main draw, dove si sfideranno i migliori giocatori. E quindi vi aspettiamo qui al Tennis Provercelli di Vercelli con il Challenge ATP da 50 mila dollari. Io ringrazio Vincenzo Mignone, il Presidente, Pier Ferraris, Ezio Fumarulo e Meo Castelli per essere stati insieme a noi.